Benvenuto! In questo videocorso vi insegnerò a realizzare Ariel con la tecnica del basso rilievo. La tecnica del basso rilievo è un po' una via di mezzo tra il 2D e il modeling vero e proprio. La prima cosa che vedremo insieme sarà crearvi una linea guida per aiutarvi nelle giuste proporzioni e dimensioni. Vedremo insieme come realizzare le singole parti, quindi la coda, le pinne, il busto, il viso e via discorrendo e vedremo insieme come colorarle, come sfumarle per aumentare la tridimensionalità e il senso di profondità. Cosa aspettiamo? Cominciamo!